La prima parte del duetto si basa sul fatto che tutta la musica è costruita su quattro note, che è l'unica parte strumentale del duetto. Le quattro note sono queste, che danno modo di suonare più o meno una musica che fa così. O anche così. Questo rimane sempre uguale. I sacrati compone le due linee che canteranno Popea e Nerone e diventa una specie di sfida. Il fatto di utilizzare una situazione inamovibile, perché è sempre la stessa, ma creando oggi volta una musica nuova. Dicarete. Grazie. 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 La cosa che vedrei è che il 13 dicembre lo ascolteremo perché ve lo suoniamo. e volevo semplicemente dire che, come tutti quelli che ascoltano Pultimiro, aspettano sempre... Questa è una canzone dei Beatles, più o meno lì, però non era tanto differente la situazione musicalmente parlata. Comunque lo suoniamo il 3 dicembre, sicuramente. Si, 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 si... Si, si, si... Si, si, si... Si, si, si... Si, si... Si, in si, in un po' il mio mio, Si, lo miro, Sì, lo miro,